Sei bellissima Elena, questo volevo dirti, quando ti incontro non so mettere in fila due parole perché mi fa venire i breviti, insomma non lo so come si fa in questi casi, cosa si dice, è la prima volta, ma credo che mi sono innamorato di te. Paglio, peccato. Io ti assolvo nel nome del padre, del figlio e dello spirito santo, vai in pace sorella. Quando sorridi sei ancora più bella. Salvatore, sei molto gentile con me, mi sei anche simpatico, ma io non sono innamorata di te. Non me ne importa niente, lo aspetterò. Cosa? Che anche tu ti innamori di me, ascoltami bene. Tutte le notti, quando finirò di lavorare, verrò sotto casa tua. Io aspetterò tutte le notti. Quando cambierai idea, apri la finestra. Solo questo e io capirò. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.